Ciao, sono Mauro, sono un libro professionista e sono un cliente di LavaPiù. Consiglierei la lavanderia LavaPiù perché il marchio Miele è sinonimo di garanzia. I servizi di LavaPiù li uso di solito uno, due o tre settimane. Essendo single, trovo rapido e sicuro utilizzare questi servizi. L'aspetto che apprezzo di più è la facilità di utilizzo delle macchine. Il capo più inconsueto che ho lavato è stato colpito di caldo perché è difficile lavarlo a casa. Sì, consiglierei LavaPiù di un amico perché quando l'esperienza è positiva si consiglia sempre.